Addie per aver abusato del suo tempo, avrebbe smesso non appena sono spuntati i veri sintomi. Allora la domanda è perché adesso abusa del nostro tempo? Secondo te House ne sta abusando? C'è una ragione medica per farci frugare nelle tasse del paziente? Non credo. Dove eravate quando si è svegliato? Eravamo usciti dalla stanza per qualche minuto. A fare che? Per prendere un caffè, avevamo passato la notte in bianco e... Lui punta a un quadro completo della storia del paziente. E' chiaro che ci sfugge qualcosa, altrimenti avremo una risposta. Non avevate il caffè in mano quando siete tornati? D'accordo Sherlock Holmes, c'è scoperti. Ci siamo infilati in una delle stanze vuote per fare sesso, non avremmo dovuto durante il lavoro e ce ne scusiamo. Possiamo andare avanti? House si farebbe Wilson prima che tu la dia a Chase. No, tu ti faresti House e Wilson prima che io la dia a Chase. Possiamo tornare al lavoro? Me l'ha data solo una volta. Perché aveva fumato? Perché aveva fumato?